salve a tutti amici e benvenuti sul nostro canale falegname oggi facciamo un ulteriore progetto di un nostro porta scarti da fregna miglia ne vedete due ne faremo uno solo fatto per bene regolare si spera che sia in definitivo abbiamo fatto questa scelta perché nei giorni successivi vedrete un nuovo progetto che è un banco per la nostra sega radiale della parkside quindi mi serve un po di spazio quindi andiamo a creare un solo porta scatti utile e sistemato per tenere sotto controllo tutti i nostri scatti grazie mille questa è una piccola evoluzione adesso andiamo a svuotare i nostri porta scatti iscriviti al canale abbiamo svuotato i nostri porta scatti adesso andiamo a smontare il tutto ciao 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 allora eccoci qua abbiamo fatto i nostri tagli adesso andiamo ad assemblare non mi ho fatto vedere i tagli perché nel minuto un po' c'erano troppe troppo ostacoli e quindi non ho voluto fare le misure precise abbiamo la larghezza della base che è 35 la lunghezza 55 e l'altezza è 92 quindi 92 55 35 allora abbiamo dato le misure adesso andiamo ad assemblare il tutto ve lo faccio vedere tramite time l'altezza 4 4 pezzi e quindi mi lascio al nostro per la ecco abbiamo fatto i nostri tagliati ok adesso è pronto per viaggiare ora facciamo questo mettiamo le cose all'interno per ordine di grandezza facciamo un doppio vediamo una visione interna così tutte le cose dovrebbero andare al loro posto in questo modo ora ecco voi ragazzi adesso andiamo a mettere l'ultimo diciamo divisorio e vi faccio vedere in questo modo a a a a a Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a voi il nostro porta scarti, bel tutto sezionato all'interno così nulla potrà cadere fuori. Ecco a voi il nostro lavoro terminato. Io spero che il video vi sia piaciuto e che sia un video di intrattenimento appunto questo. Spero che vi iscrivete al canale, vi invito a mettere mi piace e di sostenere i miei video. Grazie mille e grazie per la visione.